Ottimo lo stato delle acque baresi, emerso dai prelievi effettuati nello scorso mese di maggio dall'ARPA in 26 punti di raccolta lungo tutta la costa barese. La situazione delle aree adibite alla balneazione sembra quindi molto positiva, a renderlo noto in un comunicato l'assessore all'ambiente Pietro Petruzzelli. Le analisi forniscono un quadro di livello eccellente della qualità delle acque, eccetto una zona in cui lo stato risulta essere invece buono. Complessivamente le zone in cui la qualità dell'acqua risulta eccellente sono aumentate, passando da 26.688 km di costa dello scorso anno ai 29.919 del 2015. Quelli emersi dai prelievi dell'ARPA, commenta l'assessore Petruzzelli, sono dati molto confortanti che ci incoraggiano a lavorare sempre con maggior impegno sul rapporto che lega la nostra città al suo mare. Abbiamo un mare pulito che farebbe invidia a molte città, intendiamo valorizzarlo e renderlo fruibile a tutti, turisti e cittadini.